La Tirreno Adriatico intanto arriverà ad Arezzo il 13 marzo, sarà il quinto anno consecutivo che la Corsa di Due Mari arriva ad Arezzo in un momento anche particolare perché è la cinquantesima edizione, una vetrina ancora più bella per la città. Il quinto anno, ma permettimi di dire, è il secondo anno che si fa nel centro della città. Da quando sono qua su ho deciso di spostare l'arrivo da indicatore, nulla contro una frazione del nostro comune, ma il centro storico è altra cosa e quindi dall'anno scorso, grazie all'impegno di Morini, di Nofri, di tutto il gruppo che sta intorno a questa manifestazione, riportiamo la Tirreno Adriatico nel centro della città. Il cinquantesimo anno ci permetterà di avere un'ulteriore valorizzazione, credo, mediatica, nazionale e sportiva di questo evento, quindi è un ulteriore elemento positivo per Arezzo, ricordo, è un evento, sarà probabilmente uno dei principali eventi del 2015.